Per portare a termine un'operazione serve un'esperienza, studio, concentrazione e capacità. Tanto per far decollare un aereo quanto per lanciare un'esca in acqua. Sono Roberto Ripomonti, di professione faccio il pilota. Ma quando scendo dal mio aeromobile mi dedico alla mia più grande passione, la pesca. In questa serie andremo a farvi conoscere quelli che sono alcuni paradisi della pesca del nostro paese. E allora benvenuti a bordo, allacciate le cinture, destinazione pesca. Chiari amici, buongiorno e bentornati. Siamo nel porto di Ostia, per un'uscita che potrebbe sembrare semplice ma che in realtà ha dei risvolti tecnici di una certa importanza. Andiamo a pescare, a cercare di prendere, delle prede comuni come gli sgombri, i sugarelli e magari qualche predatore successivamente. Fino a pochi minuti fa questo cielo era completamente coperto da cumuli nembi, tuoni, fulmini, una pioggia battente. Il Tevere sicuramente si è leggermente gonfiato, starà buttando fuori acqua fresca e quindi creerà delle condizioni, lo speriamo, molto positive. Il porto di Fiumicino è uno dei più importanti su tutto il litorale romano. Le zone antistanti godono di una biodiversità sorprendente, grazie alle acque di Tevere e fiumi minori come Astura, Sanguinare ed Arrone, che sfociano poco distanti e che aiutano a portare in mare tutto il nutrimento necessario per la proliferazione di moltissime specie ittiche. Oggi sperimenteremo la pescatraina e tutte le emozioni di questa tecnica. Tolti gli ormeggi, Roberto si dirige verso una seconda imbarcazione all'interno del porto, dove l'attende il suo ospite di oggi. Nel frattempo si alza il vento di scirocco, che potrebbe portare dei problemi alla giornata di pesca. Purtroppo vedo una cosa abbastanza nefasta per le nostre ambizioni, tanto che andiamo a prendere il nostro ospite. Si sta alzando lo scirocco, come dicevano le previsioni. Lo scirocco qua è buono per qualche ora, dopodiché rende impossibile la pesca, perché si alza immediatamente quei 50-80 centimetri d'onda che ci consigliano di tornare a casa. Vedremo! L'ospite di oggi è un uomo di provata esperienza, che ha dedicato tutto se stesso al mondo della pesca. Umberto Simonelli, direttore di quella che è sicuramente il più importante portale dedicato alla pesca in mare, Global Fishing. Non esageriamo! No, è così, è un dato di fatto, un uomo che da tutta la vita fa divulgazione della pesca. Profondo conoscitore di tutte le tecniche di pesca in mare, quale migliore maestro, caro Umberto? Andiamo a pesca, però. Andiamo a pesca, perché dobbiamo prendere i pesci. Oggi le situazioni di pesca saranno diverse, per modalità e tecnica utilizzata. Prima di uscire in mare aperto, Roberto ci presenta il materiale tecnico che verrà utilizzato, mentre Umberto inizia a preparare le esche per la giornata. La nostra giornata si basa su una serie di punti che vorremmo toccare. Il primo è la ricerca delle mangianze, ovvero andare laddove vediamo i gabbiani in movimento, lanciare sopra i nostri artificiali e cercare di partecipare alla mangianza catturando qualche pesce. In seconda battuta, trainare. E questo lo possiamo fare direttamente, se vogliamo, con le canne da mangianza, quindi canne da spinning. Quali canne da spinning possiamo utilizzare? Qua ne abbiamo due modelli, con due mulinelli adeguati come misura, sono a misura 5.000 per i più tecnici, con un intrecciato da 15 libri, quindi una tenuta di 7,5-8 kg, quindi abbondantemente sufficiente. Queste canne sono morbidi, facili da gestire, facili da usare perché lanciano fino a 40 grammi, quindi ci permettono di fare tutte le operazioni che vogliamo, fino alla fine, fino a trainare, a trainare con esche piccole, chiaramente, ma ben sapendo che anche se dovesse arrivare un pesce importante, con questo tipo di canne, canne appunto da spinning fino a 40 grammi, 2,10 m, perché è possibile trainare? Perché a volte le mangianze non ci sono e allora bisogna cominciare a cercare il pesce che è negli strati inferiori del mare e a volte porta bene. Stiamo montando una piccola filosa, cioè dei pesciolini, con un pesciolino inseguitore per cercare di simulare un branchetto di pesci insidiato da un pesce più grande. Questo stimolerà la predazione dei pesciolini che noi troveremo fuori dal porto, sicuramente saranno sugheri, sgombri e forse anche le cestelle. Adesso vediamo un attimo che cosa succede. Roberto ci porta fuori dall'imboccatura del porto, che è un punto caldissimo, perché tutti questi predatori di galla vengono a insidiare il pesce foraggio che vive nel porto. Porto di Roma, buongiorno, imbarcazione 6-3. Sì, buongiorno, 6-3, quittore? Sì, qui all'ingresso e in uscita, entriamo fra un 4 ore circa, mare permettendo, grazie. Va bene, sì, sì, vi stavo vedendo. Ok, nessun problema, imbarcazione 7-3. Grazie. Dopo aver avvisato la capitaneria di porto sul programma della giornata, come d'abitudine quando si esce in mare, i nostri si mettono alla caccia delle zone con le mangianze. Posizioneremo questo complesso pescante a una trentina, anche 40 metri dalla barca e forse lo affonderemo anche per avere un effetto ancora più catturante. La traina è iniziata. Bisogna stare molto attenti ai movimenti a pelo d'acqua dei branchi di pesce foraggio, oltre ad essere pronti a cambiare tecnica velocemente. Conosciamo meglio quali saranno i pesci da sfidare oggi. L'alletterato è un piccolo predatore che fa parte della stessa famiglia di tonni e sgombri. Pesce veloce e forte, nonostante le dimensioni. Assomiglia molto al tombarello e dal giovane tonno rosso, ma è riconoscibile grazie alla sua particolare colorazione. La sua livrea è caratterizzata dal ventre color madreperla e dal dorso azzurro cupo con caratteristiche striature scure, presenti soprattutto nella parte posteriore. Si calano gli ami, in mare c'è già fermento. Eccoli qua, quello che stiamo cercando, ovvero dell'attività di superficie. Eccolo qua che è saltato, eccoli qua. Lì si vedono benissimo degli attacchi, sono sugarelli probabilmente o sgombri. Ci stiamo passando sopra con le traine. Se non funziona con le traine, tiriamo su le traine, mettiamo gli artificiali e peschiamo a spinning normale. Comunque la zona dei pesci, eccolo l'ancora che saltano. Lì. Dopo un veloce passaggio con la traina, i nostri scelgono di passare allo spinning normale. Stiamo recuperando velocemente, come detto, per cambiare rapidamente tecnica di pesca. Le nostre montature partono da un piccolo moschettone, in modo che rapidamente cambiamo, passiamo dalla traina con gli stessi attrezzi allo spinning. Quindi artificiali, piccoli artificiali da lanciare e recuperare velocemente. Eccoli qua. Una delle indicazioni più importanti per trovare le mangianze è seguire i gabbiani e le zone che sorvolano. Allora, anche se i gabbiani sono lontani, io farei due lanci per scadere in caduta. Sì, sì, proviamo, proviamo, va bene. Vediamo se li intercettiamo. Perché la zona della mangianza è questa, quindi qui intorno ci sono loro. Cerchiamo di arrivare in corrente sui pesci, silenziosamente, quindi con i motori in folle. Sfruttando la corrente, facciamo scendere le esche sul fondo, perché generalmente questi predatori predano le nostre esche in caduta. La zona scelta sembra essere ottimale e le prede iniziano a farsi vive. Umberto ha dato le giuste indicazioni. Da ora inizia il divertimento. È arrivato e tira anche. I consigli del maestro Umberto servono a questo. Questo è un piccolissimo alletterato. Questo è della famiglia dei tonni. Ovviamente lo rilasciamo. Erano più di uno agganciato, quindi c'è un branchetto. Lo rilasciamo velocemente. Muah, via! Partito come un razzo. Questo pesce in questa stagione lo possiamo non solo prendere, ma anche trattenere volendo. Quello che non possiamo assolutamente fare è trattenere i tonni rossi, perché il tonno rosso così trattenerlo è illegale ed è anche un crimine, perché è un pesce che può diventare 500 kg. Si si rimette in traina, ed in un attimo anche Umberto entra in azione. Pesce a sinistra. Vai! Eccone un altro! Vai, 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 vai! Facciamolo stancare un pochino. Eh, tirano, ma sono più di uno, eh, vedrai. Sono convinto che sia più di uno. Questi pesci sono estremamente gregari e quando sono in frenesia alimentare non perdonano nulla e nessuno. Si è sicuramente un altro alletterato. Si sente la vibrazione, no? Va bene, va bene, va bene. Però a noi interessa avere successo una azione di pesca perché questo significa che le nostre strategie funzionano. Esatto, esatto. Poi la cattura, il pesce è un fatto secondario. Poi si arriva al pesciolone, tanto di guadagnato. Sono due. Sono due. Come immaginavo. Ecco qui. Però non che l'altro, beh. Così questo lo lascia a me la volo. Quindi la strategia di pesca è assolutamente positiva. Funziona. La giornata inizia alla grande con due catture. Eccolo qui. Io butto questo, eh. Eccolo. Lo rievo al mare. Via. Mamma mia come qua. Che missili. Dai, grandissimo. Bene, bene, bene. Vai, continuiamo. Giro la barca. Stiamo andando a 3,4 nodi, non di più. 3,4, 3,5. Quindi bisogna regolare il motore per fare in modo che gli artificiali lavorino alla giusta profondità e bene. Se siamo troppo veloci, questi artificiali piccoli lavorano male. Soprattutto quello di coda che è un piccolo minno. Intanto io sto guardando se siete qualche movimento. La pesca è molto dinamica, molto bella. I pesci non sono grandi. Adesso a volte sono grandissimi. Però c'è emozione, c'è adrenalina. È quello che cerchiamo. Una mattinata diversa dalle altre. Una mattinata diversa può riservare situazioni che un pescatore deve affrontare, ma di cui farebbe volentieri a meno. Ogni tanto succede anche questo e la pazienza del pescatore è qui che veramente si esprime al meglio, vero Roberto? Sì, 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 sì. Salvo poi dopo tre minuti che non ti riesce niente e prendi le fornici. Bisogna spegnere i microfoni. Esatto. E fai il parrucchiere. Sparecchi tutto. Tagli tutto. No, no, ma sta venendo, sta venendo. In un attimo viene sbrogliata la lenza e si torna in azione, ben sapendo che il mare sorprende sempre. Pesciotto, anche questo dovrebbe essere un piccolo alletterato. Mamma mia! Ma no, ma lo sgombro più piccolo del mondo! No, una palamita! La palamita più piccola del mondo! Questa è una mini palamita. Anche questo è un pesce che rilasciamo perché può diventare molti chili, ma è un pesce meraviglioso già da piccolo. Via, via, cara! Vai! Opla! Eccolo anche di qua! Viva! Strike! Doppio strike! Doppio strike! Vi siete accorti che Roberto non ha lanciato la sfida di oggi? Nessun problema. Tra le righe glielo ricorda Umberto. Vediamo chi ha più pesci, eh! Già ho vinto a mani basse. Hai già vinto a mani basse. Perché devi sapere, caro Umberto, che questo programma prevede una sfida tra te e me. Io non te lo volevo dire. Perché sapevo che mi avresti comunque battuto. E quindi adesso maledizione. Sì, ma che si vince? No, chi perde paga. Ah! Paga che andiamo al ristorante se siete d'accordo e... E allora sono dolori. E allora sono dolori. Mi sai che hai già perso. Ci siamo, eh! Ecco i pesci, ecco i pesci. È sempre il nostro letteratino che si è un po' incaprettato. Vabbè, tanto... Ma non lo liberiamo subito. Umberto fa un'altra cattura. Ancora un tonno alletterato. Le attrezzature usate quest'oggi sono versatili e permettono di affrontare molteplici situazioni differenti. Per fare questa pesca che può portare anche delle catture importanti non servono attrezzi straordinariamente potenti. Può arrivare anche un grande pesce ma una canna da spinning perché tale è questa con queste misure ci permette di coprire un sacco di range di dimensione di cattura. Quindi possiamo andare dalla trenetta leggera che stiamo facendo all'aggancio che andiamo a cercare di prede importanti. Oh, senza la leggera. Questo è un pesce vero. O sono più di uno? È una palamita, sono sicuro. Eh sì, del colore sembra proprio questa. Ha visto la barca. Ha visto la barca, ragazzi, eh? Non è proprio contenta di venire con noi. Bravo, bravo, bravo. No, è un alletterato? Bellissimo alletterato. È un bellissimo alletterato. Bellissimo alletterato. Questo è già un pesce di quelli che cercavamo. È un bel pesce. Vediamo se riusciamo lo lasciamo andare di corsa. Assolutamente. Pronti. Ciao, caro. È stato? Eh, figurati, come un missile. Bravo, Umberto, grande. Purtroppo le previsioni non le hanno sbagliate perché là in fondo c'è pioggia, addirittura forte. Quindi a un certo momento cominceremo a pescare sotto l'aco. Mi rallenti un attimo per piacere? Porca miseria. Perso. Oh! Disdetta, disdetta. Ha spaccato il filo nell'ultima fuga. Fuga, quindi dobbiamo mettere un filo leggermente più grosso. Le condizioni non sono facilissime, come potete vedere. Temporale, in giro, in arrivo. Il mare comincia a essere impegnativo. Per fortuna la barca è in grado di reggerlo senza alcuna difficoltà. Semmai avremo problemi all'ingresso del porto, ma è uno scirocco che era previsto. Questa è una situazione di pesca buona comunque. Siamo al limite ancora per il tipo di prede che peschiamo e le attrezzi che stiamo usando. Però abbiamo perso un bel pesce per rottura, abbiamo preso diversi piccoli pesci e cosa chiedere di più? La sessione di oggi sta andando benissimo, ma ancora non è finita. L'emozione della pesca sta anche nell'attesa di ciò che può succedere da un momento all'altro. Diciamo che tutto sommato la giornata ci ha comunque regalato qualche piccola emozione e le strategie di pesca sono state adeguate, ma ancora stiamo continuando ad andare, quindi sicuramente qualche altra cosa succederà. Doppio strike, ragazzi. Doppio strike. Incomincia a fischiare il sterciato, vuol dire che c'è tanto vento. Ai ai ai, doppie... Abbiamo fatto una filosa, si può dire? Guarda qua che raccolta di pesci. Sgombri! L'altro letteratino e lasciamo andare subito. Questi sono sgombri, li slamiamo. li mettiamo in vasca al vivo. Che ci potrebbero essere utili. Accidenti! Neanche il tempo di rimettere la cane in acqua ne abbiamo un altro. E questo sembra è probabilmente uno più alletterati sulla nostra filosa. Mi sento vibrare. Anche l'altra! Sì, sì. Questi sono una serie di pesci. Uno, due, tre, quattro. e evidentemente abbiamo trovato l'intero branco. Adesso li lasciamo andare tutti. Purtroppo non arrivano quelli grossi. Però, tutto è branco abbiamo preso. Uno. L'ultimo, uno sgombro. E lo teniamo. Due. I nostri continuano a catturare con una frequenza pazzesca al punto che sembrano essersi dimenticati della loro amichevole sfida. Riuscire a fare così tanti recuperi è indice di ottima scelta strategica dei pescatori ma anche di grande salute biologica di questa zona vicina alla costa. Quella che abbiamo fatto fino adesso è quella che si chiama traina leggera, traina costiera che sembrerebbe una pesca a pesci minori ma in realtà è una è un segnale importante di un mare vivo di pesci piccoli che si avvicinano alla costa perché sono in fase di sversamento e quindi rappresentano sono esattamente il termometro di un mare che è vivo. Ecco, volevi il rosso? Ecco il rosso. Tonno rosso? Sì. Con la cattura e l'immediato rilascio di un giovane tonno rosso la sessione si conclude ed i nostri rientrano in porto. È arrivato il momento dei saluti anche se dopo pagherò pegno e sarà con grande piacere che sarà il mio ospite al ristorante ovviamente. Molto bene. Va bellissimo. Perché mi hai fatto vedere come si pesca in questo mare mi hai fatto vedere tutti i nostri amici con quanta semplicità è possibile passare una giornata bellissima. Assolutamente sì. I nostri piccoli pesci che in realtà sono grandi pesci sono quelli che noi adesso chiamiamo i pesci poveri ma che in realtà sono oltre che molto divertenti da pescare sono ottimi da mangiare ma soprattutto sono un segno biologico molto importante. Siamo davanti al porto di Ostia e qui c'è il Tevere e il Tevere è fonte di vita porta tantissimi nutrienti e qui si sviluppa tutta la catena alimentare della predazione e della vita nel mare. Quindi abbiamo comunque partecipato alla vita del mare in qualche modo. Ci siamo divertiti abbiamo rilasciato un sacco di pesci. Oggi abbiamo preso 30-40 pesci ne abbiamo presi tanti li abbiamo rilasciati tutti. Questo non vuol dire che tutti si debbano comportare in questo modo anzi la pesca è fatta per mangiare e godere della bontà di questo pesce però bisogna sapersi limitare. Assolutamente sì anche perché come ho sempre detto io il fine della pesca non è assolutamente la cattura ma il confronto tecnico il fatto di aver trovato il sistema per poter avere ragione di qualcuno altro che comunque ha le sue furbizie e ha la sua necessità di sopravvivenza. Noi ci invadiamo in qualche modo un mondo che non è il nostro dobbiamo rispettarlo quindi se c'è la possibilità di prendere un pesce e mangiarlo santificarlo a tavola con gli amici con le persone a cui si vuole bene è assolutamente una cosa sacrosanta da fare ma quando non è necessario limitiamoci al divertimento della cattura e a un rilascio consapevole veloce senza eccedere mai in nessuna maniera. i nostri pescatori i nostri pescatori si separano per attraccare le proprie imbarcazioni e si danno appuntamento al ristorante del porto dove Roberto dovrà ahimè pagar pegno ancora una volta prima di godersi il meritato riposo il doveroso saluto con una delle sue massime. E allora cari amici come al solito cerco di concludere con una massima che vado a estrapolare dal mondo dei piloti dal mondo del volo che mi appartiene. quando vediamo i bollettini meteorologici che ci indicano un tempo splendido siamo contenti sì ovviamente ma diciamo sempre una frase come potrebbe essere potrebbe peggiorare. Ed è questa la lezione di oggi non va lasciato nulla al caso perché la pesca è divertimento e per nessuna ragione una previsione sbagliata ci può mettere in difficoltà. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!